La Repubblica dei Transumani, diretta da Maurizio Sambuca Molinari. Unione Europea, Ursula a caccia dei voti, oggi a Bruxelles i leader europei si confrontano sulla nuova commissione, von der Leyen resta in pole position, Macron e Scholz puntano a fare subito l'accordo, ma i vedi incrociati sulle alleanze possono riservare ancora delle sorprese. Prodi dice che l'Europa ha bisogno di una guida forte, Meloni e ambidestra. Ora come avrete notato, quando le cose vanno male, questi di Repubblica non hanno il coraggio di scrivere neanche una parola, oggi non aprono, dopo aver per giorni, per settimane pubblicizzato questa grande conferenza di pace che avrebbe messo all'angolo la Russia, adesso che hanno fatto una figuraccia, non hanno neanche il coraggio di aprire con questa notizia, la mettono qui di spalla, dice pace in Ucraina, Kiev cerca una sponda, vedete come sono un po', comunicazione un po' sotto tono, una sponda con Riad e Pechino. Si vede qua Zeleschi, intendo spogliare carte così, messe un po' là a caso, però Repubblica preferisce puntare su altro e oggi si dedica alla pettinatissima Ursula von der Leyen. Eccola qui, ce ne parla Claudio Tito, Unione Europea, dice leader divisi, von der Leyen, dice i voti, li cerco io. Oggi la cena del Consiglio, la Presidente alle pressi con le divergenze sull'allargamento della coalizione. Cioè lo scenario peggiore sarebbe proprio quello di ritrovarci Ursula von der Leyen a capo della Commissione Europea. In Francia e in Germania l'elettorato ha dato un segnale forte, Scholz e Macron sono usciti indeboliti dal voto grazie alla partecipazione di persone, di cittadini che vogliono esercitare un diritto di sovranità votando, che hanno messo in grande difficoltà questi due elementi, che erano quelli che si erano più esposti per creare le condizioni per aumentare la polemica con la Russia. In Italia invece questo non è accaduto, ci sono alcuni personaggi che non fanno il bene di questo Paese, che parlano di astensione costituente, che si inventano il crollo del sistema sulla base del disimpegno dei cittadini rispetto al rito democratico. hanno fatto un po' presa questi signori perché parlano a un pubblico facilmente suggestionabile. Comunque il risultato di questo attivismo filo-astensione di alcuni personaggi che si approfittano delle paure della gente alla fine per creare un bacino di riferimento personale da non trasformare mai in forza politica e collettiva, ha determinato la cristallizzazione dei vecchi equilibri. Per cui i fratelli d'Italia e il Partito Democratico sono usciti tutto sommato bene dalle elezioni europee lasciando le briciole a tutti gli altri. Quelli che invece non sopportano il sistema che ormai domina in Italia hanno preferito ritirarsi proprio dalla competizione elettorale pensando così facendo di dare un segnale che in realtà favorisce le persone che vorrebbero colpire. I voti li posso trovare in Parlamento, dice Ursula von der Leyen, senza cambiare la maggioranza. L'ultimo messaggio che Ursula von der Leyen ha inviato ieri ai quattro negoziatori del Partito Socialista e del PPA per i vertici dell'Unione Europea è stato questo. La Presidente uscente della Commissione alla vigilia del summit informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione è dunque sicura di potersi muovere lungo i binari stretti dell'alleanza tra socialisti, popolari e liberali. Alla fine quelli che hanno votato Fratelli d'Italia alle europee rischieranno di vedere Ursula von der Leyen di nuovo a capo della Commissione proprio grazie ai voti degli italiani che si sono fidati di Giorgia Meloni. Per cui le persone che giustamente vedono in von der Leyen un problema, una donna pessima che continua a soffiare sul fuoco della guerra, che favorisce gli interessi alle multinazionali del farmaco a scapo della salute e della sicurezza dei cittadini, potranno ritrovarsela a capo della Commissione europea proprio grazie al voto che hanno espresso in favore di Fratelli d'Italia. Oggi si consumeranno, quelli del PD lo sappiamo, ma chi vota PD tifa per il male. Io non me la prendo tanto con il PD perché chi tifa PD è favorevole alla guerra, è favorevole alla disuguaglianza, è favorevole alla distruzione del welfare, è favorevole alla distruzione del diritto del lavoro, è favorevole alla creazione di una società stratificata dove pochi milionari governano su massa straccione. Chi vota PD crede nel riscaldamento climatico, crede che arriveranno tre ceti terremoti se l'uomo non si inchina di fronte alla divinità naturale. Cioè è gente fatta così, per cui chi vota PD legittimamente crede in queste cose e si organizza intorno a questi convincimenti. Ma chi vota Fratelli d'Italia non credo voglia davvero von der Leyen a capo dell'Unione Europea, eppure se la ritroverà lì. Sebbene in questa prima parte di discussione non si assumerà alcuna decisione definitiva, dice von der Leyen vuole giocare d'anticipo, sa che il suo nome non ha alternative, è l'unico nella lista delle tre principali famiglie europee. I problemi restano perché nonostante le sue rassicurazioni non tutti si fidano. La necessità di ampliare l'Eurocamera, i numeri dei suoi sostenitori infatti resta un nodo. I socialisti hanno posto una condizione e una richiesta, non vogliono Giorgia Meloni e vogliono avviare una trattativa con i Verdi. I popolari presentano il menu opposto, non vogliono i Verdi e vogliono aprire invece alla destra. Questa è la situazione in Europa. La prima parte del negoziato si sta giocando anche sul portafoglio, ossia sulle poltrone da segnare. Alla Francia è stato promesso un nuovo dicastero della difesa. Anche qua si stanno facendo i conti senza l'oste perché questa Unione Europea non conta nulla, non esiste una sovranità europea. È tutta una grande finzione, giuridica e politica. La Commissione Europea, il capo della Commissione Europea viene scelto dagli Stati, non viene selezionato all'interno di un Parlamento che esprime una sovranità europea che non esiste. Il ruolo degli europarlamentali è solo ornamentale, confermativo. Una volta che gli Stati hanno deciso e hanno puntato su una figura, poi fanno andare lì questi personaggetti ad alzare la mano per dare l'impressione al cittadino europeo di contare qualcosa. Ma nel momento in cui le nazioni principali che hanno costruito questa architettura miserabile e fallimentare, vale a dire Francia e Germania, vivono delle forti convulsioni interne, queste si scaricano necessariamente sugli equilibri europei. Per cui di quale Ministero della Difesa parli? Se vince Marine Le Pen alle prossime elezioni francesi indette da Macron dopo la batosta, quale di castero europeo dovrebbe nascere a guida francese? Tito, alla Spagna daranno l'ambiente, alla Callas, quella Estone Callas che daranno la musica forse. L'Italia vuole pure qualcosa, dice che a Meloni daranno qualcosa pure se fa la brava. Ecco, insomma questo è l'equilibrio che sta nascendo. Non c'è dubbio che Francia e Germania hanno bisogno di chiudere la partita, in modo che non ci sia alcuna legittimazione dell'estrema destra. Dice Macron ha in Marine Le Pen il nemico interno e Scholz deve fare i conti con la crescita dei neonazisti, l'alternative for Deutschland. Cioè voi di Repubblica vedete i nazisti dove non ci sono? Questi alternative for Deutschland non hanno nulla dei neonazisti, ma proprio niente. E non li vedete dove ci sono? I nazisti sono gli amici vostri del battaglione Azov, gli amici di Zelensky, quelli sono effettivamente nazisti, vanno in giro con le sbastiche, hanno dei simboli che si richiamano a quella stagione, si riferiscono ad una figura come Bandera che era un collaborazionista di Hitler. Lì non li vedete i nazisti dove ci sono davvero. E invece vi inventate il nazismo di alternative for Deutschland e di altre forze che portano soltanto la colpa di non volere la guerra mondiale. Perché noi viviamo un periodo così strano in cui le posizioni sensate di chi vuole impedire la catastrofe generale vengono demonizzate e bollate come folli e paranoiche. E le posizioni invece, quelle realmente folli e paranoiche, di chi come Macron e Scholz vuole la guerra mondiale con la Russia, quelle invece vengono presentate come moderate e sensate. Proprio per questo bisogna fare attenzione ai media. Perché i media hanno un potere eccezionale, possono farvi odiare le persone migliori, e possono farvi amare le persone peggiori. E per quanto noi proviamo a combatterli con le armi che abbiamo, con il rete, con i pochi strumenti che ci lasciano, la grande massa finisce poi per essere governata ancora oggi da queste strutture, che arrivano a milioni di persone. Noi siamo una goccia nel mare, non ci fermeremo, però dobbiamo avere il senso delle proporzioni. E questi signori continuano a creare le convinzioni che le masse abbracciano come vere.